Come l'ultimo giorno di scuola. Così appariva ieri il vecchio Consiglio Comunale che si è riunito per approvare il rendiconto di gestione del 2013. Seduta Lampo ieri mattina alla presenza del sindaco De Caro, giusto il tempo per approvare a maggioranza il documento economico-finanziario. Il dato più evidente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale barese, a parte l'approvazione del documento programmatica avvenuta con 29 voti a favore, è stata la spaccatura degli alfaniani. Monte Leone e la Coppola hanno votato col centrosinistra, mentre Sciacovelli si è astenuto. Lo stesso la Coppola, questa mattina in conferenza stampa, ha ufficializzato il passaggio del movimento di Giacomo Olivieri, Realtà Italia, anticipando quello che accadrà nel nuovo assetto della maggioranza, in linea con il quadro politico nazionale dove gli alfaniani sono al governo con Renzi. Monte Leone, consigliere uscente, non più ricandidatosi, commentando l'esito del voto di NCD, ha attribuito il fatto ad una mera incomprensione tra i consiglieri del gruppo, che pare avessero deciso di astenersi. In realtà, il voto su un provvedimento finanziario non aveva niente di politico, ma una natura squisitamente tecnica. Nello schieramento dei moderati si fa sempre più strada la convinzione che NCD sia pronto a raggiungere la sponda opposta. Prove tecniche di riposizionamento per le elezioni regionali, pur in mancanza di un accordo formale con il Partito Democratico. Ma i due gruppi, almeno per il momento, hanno deciso di non calpestarsi i piedi. E questo è il modo migliore per neutralizzare lo schieramento di centrodestra e soprattutto per indebolire Forza Italia. La coalizione, dopo la sonora sconfitta alle comunali, appare incapace di reagire. I rumors che circolano per i corridoi del palazzo sembrano indicare che qualche componente del gruppo di Paola sia già pronto a salire sul carro del vincitore e a cambiare casacca. Chiusa la parentesi del Consiglio Comunale, il sindaco De Caro ieri ha nominato assessori Pietro Petruzzelli e Angelo Tomasicchio. Rimane ancora in forze la posizione della Bottalico.